La capolista Virtus Matera osserva il primo di due turni di riposo e le inseguitrici tornano in scena il campionato di Serie C Silver di pallacanestro. Ampi successi casalinghi sia per la scuola di basket Lecce che per pallacanestro Molfetta che tornano così a ruota della capolista Matera a 16 punti, antagoniste che inseguono a quota 14. Sfonda addirittura il tetto dei 100 punti, la scuola di basket che batte Assi Brindisi per 107 a 79 agli ospiti non basta un incontenibile Cvetanovic, miglior marcatore di giornata con 35 punti. Dopo l'intervallo il vantaggio dei ragazzi di Coach Leopizzi si fa progressivamente incolmabile e alla fine sono quattro i giocatori Leccesi in doppia cifra su tutti che il Melis con 21 e Mocavero con 18. Campo amico sino in fondo anche per pallacanestro Molfetta che supera forti i dudotrani per 94 a 58. Tutto facile per i padroni di casa che esibiscono un pocherissimo dai 10 punti in su. In testa Dosis con 18. Incertissima la sfida di Francavilla dove la spunta Canussi un basket per 88 a 84. Ospiti puntualmente avanti alla fine di ogni periodo ma la squadra di Cafforio resta in partita sino all'ultimo con Di Giacomo e Canturek, migliori cannonieri con 18 punti a testa. Sull'altro fronte ancor più ispirati la Tella con 22 e Dusels con 20. A quota 10 punti perfeziona l'aggancio a Canussi un invece Barletta basket che si aggiudica la stracittadina contro Nuova Cesistica per 84 a 58. 5 uomini in doppia cifra per i ragazzi di Scocci Marro. Murolo ne fa 20 contro i 25 di Deering dall'altra parte autore da solo di quasi la metà dei punti dei suoi. Adesso Nuova Cesistica Barletta è sola sul fondo a due punti perché Appi Monopoli passa in casa di Anspi Santarita Taranto per 66 e 61 agganciandola a quota 4 in graduatoria. Prossimo turno con trasferta proprio a Monopoli per Molfetta unica del terzetto di testa a scendere in campo. Grazie a tutti.